La rete delle associazioni, Confcommercio e il Comitato dei Cittadini si congratulano con i giovani scesi in piazza sabato scorso per protestare contro i problemi della scuola ma anche contro la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Giarre. Circa un migliaio di studenti hanno sfilato in un lungo corteo partito da Piazza Duomo che ha raggiunto attraverso il Corsitalia Piazza San Pietro a Riposto. Giovani che sono scesi in piazza con una duplice veste, sia di studenti per protestare soprattutto contro le gravi carenze legate all'edilizia scolastica e la mancanza di assistenza nei confronti dei giovani affetti da gravi disabilità sia in qualità di cittadini per rivendicare il diritto alla salute in un territorio privo di pronto soccorso e ospedale di base. Devo dire questo a nome del Comitato dei Cittadini, della Confcommercio e della rete delle associazioni, siamo ben lieti e felici della presa di coscienza da parte degli studenti e lo siamo per due specifici motivi. Uno perché i giovani rappresentano il futuro e la storia ci ha insegnato che le maggiori rivoluzioni sono nate dai giovani e secondo motivo non meno importante è quello che la problematica degli studenti che hanno voluto portare nelle piazze, nella loro protesta e uno dei punti cardini del ricorso al TAR che le varie associazioni hanno presentato e che da un momento all'altro aspettiamo che arrivi anche l'esito di questa situazione. C'era stata una piccola polemica nei giorni precedenti alla manifestazione a proposito di ipotetiche strumentalizzazioni di una manifestazione che ricordiamo cade in un momento in cui si è in piena campagna elettorale. Polemiche che sono finite prima ancora penso del nascere perché i ragazzi hanno dato il giusto imprinting alla manifestazione senza farsi strumentalizzare da alcuno e senza che taluni possano averci visto niente di particolare. Polemiche che sono stati strumenti